Paradoxo, manda la clip Che è paradoxo Durante le cose di safety Allora io qua dico Maleducazione Ah se c'è un incidente Non aiuto nessuno Avevamo solo da stare attenti Ci stiamo muovendo Stavamo ancora parlando Abbastanza portanza Un po' si vedono gli flop up Vestita così per non farsi riconoscere dai fan Collego, soltanto adesso Una cosa Tipi di atteggiamento d'attiva Ed eccoci alla fase della colazione Abbiamo dei amor Parallel Collego soltanto adesso Collego soltanto No ovviamente l'avevo già collegato prima Ma ho setappato una gag Importante Ho setappato una gag Molto, molto Molto, molto importante Era la diva, era la diva Tra l'altro lei A quel punto non l'aveva ancora parlato Ci siamo salutati dopo Io ho fatto questo Vloghettino così nascosto Rosemary